Il comune di Castellabate, inserito nella rete dei comuni del flag Cilento Mare Blu, presieduto dall'ingegnere Mauro Inverso, rientra nell'esecuzione della misura 3A3, formazione per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e il turismo integrato. Verranno attivati due progetti formativi sui temi della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e sulle nuove forme di turismo della durata di 120 ore ciascuno, collezioni di diritto e mercato del lavoro, inglese, informatica, turismo, aspetti fiscali e normativi dell'impresa con mappature del territorio, visite aziendali e stage. Si tratta di un'opportunità per i giovani del posto che potranno così qualificarsi per lo svolgimento di nuove attività basate sui valori reali del territorio. Tutte queste attività sono rivolte ai giovani dai 18 ai 36 anni. Il limite d'età per le donne si alza a 39 anni, che vogliono incrementare le competenze e capacità di auto-impresa. Nella selezione degli allievi verrà data precedenza ai pescatori e ai loro familiari. L'azione sarà attuata dall'ente di formazione TecnoQuality, accreditato presso la Regione Campania, e darà diritto all'attestato di partecipazione e ad un rimborso di 500 euro per allievo. Per informazioni e per l'iscrizione ai corsi, che si terranno ad Agropoli per un massimo di 30 allievi, è possibile consultare il sito internet www.cilentoregenerazio.com, oppure telefonare al numero 327 7522 339, oppure scrivere un'email a a.tecnoquality.gmail.com. Il consigliere delegato all'Area Marina Protetta, Assunta Niio, in merito all'opportunità dichiara La nostra costa è a naturale vocazione nei settori legati alla pesca e al turismo, per questo bisogna incentivare tali progetti formativi affinché i nostri giovani possano restare sul territorio a costruire il loro futuro creando nel contempo valore culturale ed economico per l'intera comunità.